Ciao sono Marta, riguardo di WOW, cosa posso dire? È stato il mezzo attraverso il quale sono riuscita a realizzare il mio sogno che è il punto di frequentare la facoltà di medicina e chirurgia, attualmente sono iscritta qua a Sassari e consiglio a coloro che hanno come me questa aspirazione di frequentare il corso, comunque eseguire consigli di utilizzare la piattaforma online perché il metodo è veloce e efficace, io ho imparato a studiare in maniera efficace appunto grazie a questo e soprattutto a controllare gli errori che sono la cosa fondamentale, non serve fare un punteggio altissimo ma serve riuscire a fare il punteggio che ci consente di entrare, quindi ottimizzare i tempi e lo studio. Io faccio WOW e tu?